In meno di 48 ore aveva messo a segno due furti all'eremo di Monte Casale. Adesso è stato individuato e denunciato dai carabinieri del comando di Sansepolcro. L'uomo, nato a Roma ma residente nel comune Biturgenze, era stato infatti notato la scorsa domenica da alcuni passanti che lo avevano visto aggirarsi con fare sospetto e poi scastinare una cassetta delle offerte. Immediato l'allarme ai militari che grazie alla descrizione fornita dai testimoni sono riusciti ad identificare la persona ed hanno così iniziato a monitorarla. A distanza di soli due giorni, lo scorso martedì mattina, i carabinieri sono riusciti a sorprenderlo con le mani nel sacco proprio mentre tentava di scassinare di nuovo le cassette delle offerte della struttura religiosa. L'intero bottino, circa 100 euro, è stato riconsegnato ai legittimi proprietari mentre per l'uomo è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato continuato. Inoltre, essendo sottoposto ad un avviso orale, sarà anche deferito all'autorità giudiziaria per l'inottemperanza del provvedimento emesso nei suoi confronti che gli intimava di tenere una condotta conforme alla legge.